Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Corico Monpiemonte. Io sono Alessia Caserio, vicepresidente Corico Monpiemonte e sono in compagnia, come sempre, del collega Marco Briamonte. Quest'oggi vorrei trattare con voi un tema sempre molto attuale e mi riferisco alla discriminazione e alla parità di trattamento. Si tratta di una tematica che riguarda tutti, Corico compreso, non a caso rientra tra le funzioni proprie del nostro ente e trova il suo fondamento giuridico nella legge regionale numero 5 del 2016, la quale disciplina proprio le norme di attuazione della discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale. Il Corico in questa attività si muove su più fronti, nel senso che da un lato monitora il contenuto della programmazione televisiva locale e della comunicazione commerciale e dall'altro lato promuove e favorisce tutte le iniziative volte a prevenire e a sensibilizzare i cittadini su questo argomento. Infatti di concerto con la regione Piemonte vengono attivate delle collaborazioni con le amministrazioni statali e locali competenti, con l'autorità garante della comunicazione e del mercato, vengono naturalmente coinvolti Agicom, l'ordine professionale dei giornalisti piemontesi e ovviamente tutti gli operatori del settore, quindi parliamo del settore della comunicazione, della pubblicità, del marketing, dei social media e dei network in generale. Laddove naturalmente durante questi controlli dovessero emergere delle problematiche, dovessero emergere dei contenuti discriminatori, ad esempio anche magari un uso offensivo dell'immagine della donna o comunque in generale qualunque comportamento che vada a ledere appunto la discriminazione e la parità di trattamento, quindi in contrasto con quelli che sono i principi disciplinati dal codice di autodisciplina della comunicazione, il Corecom ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti competenti, ovvero al Consiglio e alla Giunta regionale. Ricordo che chiunque volesse appunto segnalare dei comportamenti antidiscriminatori o lesivi della parità di trattamento può farlo in qualsiasi momento scrivendo una mail all'indirizzo nodiscriminazione.corecom.cr.piemonte.it e io con questo ho concluso, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al collega Bremonte. Grazie Alessia. Una delle funzioni più importanti del Corecom è proprio quella della tutela della salute dei cittadini. Questa funzione si concretizza anche nella verifica delle emissioni magnetiche, elettromagnetiche derivanti dai siti radioelettrici allocati sul territorio della regione. Questa funzione deriva sia dalla legge istitutiva dei Corecom, la 1 del 2001, sia dalla legge 19 del 2004, che appunto hanno individuato il Corecom come soggetto deputato a verificare che non vengano superati i tetti posti dalla legge, e i limiti posti dalla legge appunto all'emissione di questi campi magnetici o elettromagnetici. Come si effettua questa verifica, questo controllo? Il Corecom si avvale della collaborazione particolarmente effettiva dell'ARPA, Piemonte, che va appunto a compiere materialmente le verifiche secondo dei criteri a rotazione. In particolare vengono individuati i siti dove c'è una maggiore concentrazione di impianti radioelettrici, i siti vicino alle scuole, i siti segnalati dai cittadini o dai comitati di cittadini, o da enti o da comuni dalla regione stessa o dalle province, in modo che appunto vengano effettuati con un sistema a rotazione le verifiche ritenute più opportune. Ovviamente, laddove si sono verificati dei casi di superamento di queste soglie, la verifica verrà ripetuta nel tempo, a prescindere dal criterio rotatorio. A questo punto, come sempre, il tempo corre veloce. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima occasione con il Corecom Piemonte. Grazie. Con molto piacere inizio questa trasmissione. Sono dottor Paolo Ruscalla, presidente della sezione di Torino del PASFA e mi trovo qua con Don Cipriano Farkas, nostro assistente spirituale. Il PASFA, Associazione Spirituale per le Forze Armate, è un ente del terzo settore, apolitico e senza fini di lucro. Nasce alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, nel maggio 1915, come Comitato delle Patronesse per l'Assistenza Spirituale delle Forze Armate, da qui la P dell'acronimo PASFA, in un'epoca in cui il termine volontariato era ancora sconosciuto e l'impegno dei laici nella Chiesa ancora limitato. Il PASFA fu fortemente sostenuto da Giovanna Balbi, moglie del generale Cadorna, unitamente ad altre signore sensibili alla causa, per affiancare i cappellani militari appena designati dal generale Cadorna ad ogni reggimento di tutte le armi, oltre che agli ospedali militari. La prima presidentessa nazionale fu la precipessa Isabella Borghese, che riunì il primo comitato nazionale l'11 febbraio 1916. Da allora il PASFA, adeguandosi alle mutate esigenze dei militari, ha continuato nella sua opera di aiuto e costante assistenza. Oggi coadiuva l'opera dei cappellani militari, diretta all'assistenza spirituale e dalla promozione umana dei militari, dei civili della difesa e non solo, e delle loro famiglie, fornendo loro assistenza materiale e culturale prioritariamente, ma non esclusivamente. L'associazione spicca per la nutrita presenza di quota erosa, essendo costituita prevalentemente da donne. La nostra opera si svolge con attività, interventi e servizi sociali con finalità educativa, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno di persone svantaggiate, attività di interesse generale, promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. Ci do ora la parola al nostro assistente spirituale, Don Cipriano Farkas. Salve a tutti, sono stato nominato da poco assistente spirituale della nostra associazione, perché quando un gruppo di persone si impegnano per il bene del prossimo, in questo caso il prossimo sono i militari, i nostri militari, è giusto che abbiano anche una guida, un pastore, che li porti il Vangelo di Gesù Cristo, che sia la bussola che li guidi in questo compito così importante, perché sia la bussola che dica quando ti avvicini al tuo prossimo, al tuo militare, ricordati di farlo sempre con umiltà e con grande piacere cercheremo di fare la nostra parte a favore dei nostri militari. Bene, il Pasfa è tutto questo. Anche se oggi è presentato in modo estremamente sintetico, ma è anche amicizia, convivialità, tant'è che periodicamente ci riuniamo per confrontarci, programmare i nostri interventi e perché no, condividere momenti lieti con le modalità più varie, dalla semplice pausa pranzo alla vera e propria cena di gala, ad esempio in occasione del Natale. Attualmente sono presenti sul territorio nazionale 26 sezioni, sotto la guida della nostra attuale presidente, la dottoressa Maria Giovanna Iommi, a capo del Consiglio nazionale con sede in Roma. Chi fosse interessato ad approfondire la conoscenza del Pasfa e di questi temi o desiderasse unirsi alle nostre attività, può contattare il nostro segretario di sezione, il dottor Giovanni Squadrito, inviando una mail a segretario.torino chiocciolaassociazionepasfa.it Grazie. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, siamo Elena Feriale, Silvia Mercuriati, di Progetto Zora, un'associazione teatrale nata nel 2003 a Torino. Ci occupiamo prevalentemente di produzione di spettacoli di teatro contemporaneo in luoghi non convenzionali. Ci occupiamo anche di formazione, formazione teatrale per bambini, ragazzi, giovani e adulti, e di programmazione, programmando quindi stagioni teatrali ed eventi culturali. Oggi vi presentiamo uno dei progetti che ci sta più a cuore, Sguardi, storie non ordinarie, quest'anno ha la sua quarta edizione. Deci spettacoli, in scena a pianezza tra novembre e giugno, di teatro, danza e nuove tecnologie che vedrà appunto in scena artisti di fama nazionale e internazionale e numerosi eventi off. Partiamo con uno spettacolo da noi prodotto con la cittadinanza in occasione del 35esimo anniversario della caduta del muro di Berlino. Muri è il titolo dello spettacolo che vedrà in scena 23 performers. Tra questi ci sono allievi, attori, ci sono giovanissimi studenti e anche semplici cittadini. Lo spettacolo parte ovviamente dalla caduta del muro di Berlino, in realtà parte dalla sua costruzione a fine degli anni 60 e per arrivare poi ai giorni nostri. Oggi contiamo circa 70 muri, 70 confini, si parla di 40.000 chilometri di linee di confine, quanto basta per ricoprire l'intera circonferenza della terra. E dopo Muri, quindi uno spettacolo ovviamente di teatro civile, passiamo a un altro spettacolo di teatro civile che è quello di Francesca Brizolara, Tecnologia Filosofica. Il titolo è Volo ed è uno spettacolo che faremo proprio nella settimana della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tra i numerosi artisti che ospiteremo ci fa piacere citare Claudio Morici, con lo spettacolo La Maltia dell'Ostrica. Poi ci saranno ancora Tindaro Granata con Antropolaroid. Una compagnia che sta molto a cuore che sono il teatro delle Ariette è una cena spettacolo e loro metteranno in scena questo spettacolo dal titolo Teatro da Mangiare che è uno dei loro primissimi lavori del 2020. E poi abbiamo ancora Afanisi, lo spettacolo vincitore del premio Inbox 2024 della compagnia Contro al Cancio è un progetto speciale. Come diceva Elena prima, ci piace sperimentare e la contaminazione dei linguaggi per noi è fondamentale. Quindi abbiamo chiesto alla coreografa Elisabetta Consonni di progettare un piccolo laboratorio con alcuni cittadini a cui seguirà uno spettacolo uno spettacolo che sarà tra la danza e il teatro. Sicuramente sarà un lavoro davvero interessante nella commissione di questi due linguaggi e sarà in collaborazione con la lavanderia a vapore di Collegno. Proseguiremo poi con lo spettacolo di Elio Germano in realtà virtuale quindi con l'utilizzo di visori segnale d'allarme la mia battaglia e infine presenteremo un progetto di Zero Grammi e leggere delle cose perdute proiettando il film in occasione della giornata mondiale del teatro e lo spettacolo a chiusura di stagione. Il cartellone è molto ricco e come accennavamo prima davvero gli artisti che saranno da noi ospitati sono molto interessanti e porteranno degli spettacoli appunto legati al teatro alla danza e al linguaggio contemporaneo. Ma accanto a questi ci teniamo a raccontarvi anche alcuni progetti che fanno parte del nostro cartellone off e tra questi un progetto di spettacolo in occasione della giornata internazionale sui diritti umani dove ci saranno in scena 40 ragazzi tra gli 8 e i 23 anni che parleranno appunto di diritti e poi tre serate di spettacolo dedicate alla drammaturgia contemporanea e alla drammaturgia del Novecento. Su progetto Zoran.com potete trovare tutte le informazioni riguardanti la nostra associazione mentre il programma 2024-2025 di Sguardi è consultabile al sito sguardi.art Speriamo ovviamente di avervi incuriosito e ci auguriamo che il teatro possa continuare ad essere lo strumento per parlare del contemporaneo e del nostro presente. Grazie grazie dell'attenzione A presto Buongiorno sono Mauro Rubators presidente dell'associazione Cultores Sindoris del terzo settore un'associazione nata nel 2022 e che ha cominciato a muovere i primi passi da pochi mesi ed ora ha un futuro davanti a sé di iniziative. è l'ultima arrivata di una serie di istituzioni di enti che si occupano della sindone che come sapete è conservata nella città di Torino nella cattedrale dall'arcivescovo che è custode pontificio e si occupa di tutte le altre istituzioni perché vuole collaborare con le altre nel comune intento di aumentare la devozione alla sindone e di assicurare anche la ricerca sia storica che scientifica a questo proposito gli enti principali che si occupano di questo e che sono presenti da tempo nel territorio sono il Centro Internazionale di Studi sulla Sindone di Torino diretto dal professor Gian Maria Zaccone che è riconosciuto dall'arcivescovo come proprio consulente diretto per quanto riguarda ostensioni e qualsiasi argomento che centri con la sindone e nello stesso tempo coordina e organizza interventi sia di carattere scientifico che di carattere storico e archivistico sulla realtà di questo santo telo poi vi è il museo a Torino un museo importantissimo che è il museo della sindone in via San Domenico anche questo è un'istituzione diretta da professor Ballossino che merita andare a visitare perché contiene ed espone centinaia di reperti di pubblicazioni di ricerche scientifiche di resoconti di opere d'arte su quello che è la sindone noi abbiamo lo scopo di collaborare con loro nel modo più utile e più proficuo perché queste iniziative possano avere buon fine sulle nostre iniziative vi parlerà ora la nostra segretaria generale Valentina Caputo la Cultores Sindonis è volta quindi alla valorizzazione della Sacra Sindone patrimonio della nostra città ed è per questo che sta operando in due diverse direzioni una è la valorizzazione un approfondimento della conoscenza sulla Sacra Sindone ed è per questo che abbiamo organizzato nel 2023-2024 diversi seminari convegni che hanno avuto proprio lo scopo di far conoscere la Sindone sotto il profilo storico culturale e scientifico ed è anche con questi seminari e convegni che continueremo quest'anno ma sta operando anche in un'altra direzione cioè far conoscere quello che è il patrimonio culturale attorno alla Sindone e penso ad esempio alle copie della Sindone come ad Aglie oppure dipinti che il CIS si sta infatti anche adoperando per poter restaurare il nostro infatti è un territorio comunque che è ricco anche di itinerari sindonici un'altra invece prospettiva abbiamo iniziato da breve un corso di formazione gratuito in collaborazione con l'Università Pontificia Salesiana che terminerà a maggio e chiunque vorrà prendervi parte ha proprio lo scopo di far conoscere approfondire come dicevo la storicità e anche il carattere scientifico della Sindone ed è possibile comunque prendervi parte sia in presenza che in remoto tutte le informazioni sono raggiungibili sul nostro sito il Museo della Sindone come diceva il mio presidente in via San Domenico 28 è un grandissimo patrimonio è partita infatti la visita virtuale presto sarà disponibile anche multilingue chiaramente consigliamo sì la visita virtuale ma anche di viverlo in presenza perché sono diverse le emozioni naturalmente che ci può donare una visita dal vivo e presto partirà anche un concorso per le scuole perché vogliamo far sì cambiare anche le modalità di comunicare la Sindone e come ci tiene il nostro arcivescovo puntare sui giovani quindi comunicare la Sindone sotto un nuovo profilo i giovani per i giovani ed è per questo che anche troverete maggiori informazioni per chi vorrà partecipare sempre sul nostro sito www.cultoressindonis.it Bentrovati e bentrovati sono Dario Bonsignorio di Uni l'entitaliano di normazione sono qui con Elena Mocchio responsabile innovazione e sviluppo per parlare di come gli standard possono aiutare il mondo dei professionisti nel gestire la propria attività e i consumatori a riconoscere chi fornisce servizi di qualità oggi in particolare parliamo di studi professionali di avvocati e dottori commercialisti vediamo qualche numero i commercialisti in Italia sono oltre 120.000 gli avvocati sono invece circa il doppio 240.000 e tutti esercitano la professione attraverso gli studi professionali a cui i cittadini possono rivolgersi per le loro necessità è un mercato articolato e complesso in cui la concorrenza certo non manca e la necessità di avere dei riferimenti di supporto alla gestione dell'organizzazione diventa fondamentale indubbiamente ed è proprio partendo da questa considerazione che si è avvertita l'esigenza a partire da ASLA l'associazione studi legali associati di sviluppare uno standard un documento tecnico che definisse principi e criteri per la gestione di studi professionali di avvocati e dottori commercialisti insomma un complesso omogeneo di criteri di riferimento validi sperimentati e aggiornati per la gestione organizzata di queste importanti attività professionali è così che è nata la norma 1.11.871 pubblicata nel 2022 quali sono gli obiettivi che la norma ci è professata? gli obiettivi sono molteplici innanzitutto promuovere un'adeguata e moderna organizzazione degli studi professionali ha significato favorire la diffusione di buone pratiche e dare dei criteri circa la qualità delle attività svolte ricordiamo che la norma è stata studiata e redatta per avvocati e commercialisti da un tavolo di lavoro composto proprio da rappresentanti di entrambi gli ordini inoltre la norma 1.11.871 è stata pensata per assistere chi è investito della responsabilità di gestione degli studi nella realizzazione delle finalità essenziali di creazione e protezione del valore un obiettivo che si raggiunge anche tramite l'individuazione delle principali aree di rischi inerenti all'esercizio di queste attività professionali individuazione e gestione dei rischi dunque sì esatto illustrare criteri e metodi organizzativi in grado di prevenire gli specifici rischi legati alla gestione degli studi professionali in modo da far affronte ad eventi sia ordinari che straordinari facendo sì che gli imprevisti diventino in qualche modo un qualcosa di prevedibile ecco e sono degli aspetti di maggiore rilievo che lo standard mette in evidenza e nella gestione efficace di rischi e opportunità rientrano la comunicazione corretta e trasparente verso la clientela la soddisfazione della clientela la sostenibilità lavorativa così come quella ambientale e sociale dello studio la riservatezza dei dati della clientela e in generale la legalità un altro aspetto non secondario è quello della certificazione ovvero della valutazione di conformità fatta da un soggetto terzo rispetto ai requisiti individuati della nuova tecnica sì infatti questo è un passaggio molto importante che ha portato all'elaborazione di un ulteriore documento che è a supporto stiamo parlando della Uni PDR 146 che definisce i requisiti specifici per la valutazione di conformità di terza parte la certificazione insomma del sistema di gestione di studi professionali di avvocati e dottori commercialisti secondo quelli che sono i requisiti contenuti nella Uni 11 871 o per fornire anche le giuste coordinate per il percorso di certificazione ottenere la certificazione relativo marchio Asla Uni consente allo studio di essere riconosciuto dalla clientela come uno studio di qualità in grado di erogare un servizio di valore orientato tanto al cliente quanto al benessere di tutti i soggetti interni ed esterni che ne fanno parte non a caso Cassa Nazionale Forense l'ente previdenziale degli avvocati iscritti agli albi forensi promuove questi percorsi di certificazione attraverso dei bandi gli ultimi sono stati pubblicati ad aprile e questi bandi prevedono proprio il finanziamento dei costi relativi sostenuti dagli studi legali relativi alla certificazione accreditata all'acquisto della licenza del marchio Uni Asla 11 871 è l'accesso specifici percorsi di formazione erogati da Uni3 nel centro di formazione Uni ricordiamo che per saperne di più sulle attività di Uni sulle norme tecniche sulle passi di riferimento e sui corsi di formazione potete consultare il nostro sito internet all'indirizzo www.uni.com vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione grazie arrivederci salve a tutti sono l'avvocato Sabrina Mariotti del foro di Monza responsabile dell'ufficio legale dell'associazione vittime del dovere oggi con me c'è la collega l'avvocato Paolo Maria Di Luccia l'associazione vittime del dovere un ente del terzo settore con riconoscimento giuridico è fondato nel 2007 un'organizzazione attiva su tutto il territorio nazionale che segue finalità di solidarietà sociale i nostri soci sono rappresentati esclusivamente da vedove orfani invalidi e genitori di appartenenti alle forze dell'ordine forze armate e magistratura caduti o rimasti invalidi nel contrasto alla criminalità comune alla criminalità organizzata al terrorismo attualmente conta circa 500 famiglie l'associazione attiva su tutto il territorio italiano e opera in modo efficace e tenace affinché sia onorata la memoria dei caduti sia approvata e consolidata una legislazione rispettosa del sacrificio delle vittime garantita equa e adeguata tutela alle famiglie dei caduti degli invalidi e diffusa la cultura della legalità tra i giovani oltre alle attività di tutela verso i nostri associati ovviamente ci occupiamo anche di progetti di formazione e informazione lascio per questo argomento la parola alla collega l'avvocato Paolo Maria Di Lucia per spiegare queste attività grazie Sabrina e grazie alle persone in ascolto come accennavi l'associazione si occupa di diverse attività in ambito di formazione e informazione in primis di educare i giovani alla cultura della legalità infatti da oltre dieci anni realizziamo progetti con le scuole del territorio italiano di ogni ordine grado in particolare attraverso il progetto Interforze a cui partecipano oltre appunto a noi e gli altri rappresentanti dell'associazione anche rappresentanti delle forze dell'ordine e delle forze armate per l'accesso al progetto abbiamo realizzato un sito ad hoc che è www.cittadinanzialegalità.it inoltre organizziamo dei convegni di formazione su tutto il territorio nazionale aprendo dei tavoli di studio e dibattito su temi collegati alle varie forme di criminalità convegni spesso realizzati in collaborazione con gli atenei universitari accreditati anche dai vari ordini professionali del territorio ai fini della formazione obbligatoria degli iscritti e dalle stesse università per i crediti di formazione invece degli studenti infine collaboriamo anche ad attività editoriali sia tramite la pubblicazione di libri sia anche con la partecipazione alla redazione di articoli su delle riviste online i temi sono quelli legati alla difesa nazionale e internazionale alla storia e la cultura grazie a tutti grazie Paola saluto tutti voi vi ringrazio per l'attenzione e ricordo che tutte le informazioni sull'associazione sono presenti sul sito www.vittimedeldovere.it grazie i programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione grazie